Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori Andiamo subito a vedere le notizie principali del momento in casa Viola Oggi dovrebbe finalmente arrivare l'ufficialità del passaggio di Marco Piazza dalla Juventus alla Fiorentina Corvino però rimane concentrato sul mercato E prova a stringere i tempi per l'acquisto di Thomas Socek Intanto la priorità è vendere per provare l'assalto al centrocampista La Juventus continua ad offrire anche Sturaro I nomi caldi in uscita sono sempre gli stessi E con il Cagliari ci sarebbe un discorso ben avviato per il passaggio di Saponara in Sardegna Mentre per quanto riguarda Sanchez in rosso-blu il discorso sarebbe un po' più complicato Per Fiorentina1.com Andrea Valeri Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola A cura di Fiorentina1.com